Una macchina è semplicemente stupenda, è una Mercedes, veramente mi sono trovato benissimo, guida fluidissima, impressionante il fatto appunto guidando la macchina elettrica di questo silenzio assoluto che senti dentro il cockpit è veramente eccezionale. Una guida molto piacevole, molto rilassante e rilassata. È andata benissimo, è andata benissimo, è una macchina stupenda, rilassante, silenziosa, bellissima questa cosa che si può aprire tutto, per cui anche chi sta dietro sta bene, cosa che nelle altre macchine non accade, e poi è riposante, quindi avrei fatto tre giri, non ti annoio mai. Da una parte sì mi aspettavo questo, ma è andato oltre le mie aspettate, rilassante, non avendo mai provato neanche una macchina del genere, diciamo ha superato le mie aspettative in positivo. Sì, adesso poi mi sono informata anche sui tempi e costi di ricarica e penso che sia anche molto vansaggioso. A presto. Grazie.